buonasera a tutti buonasera benvenuti a questo incontro permettetemi di ringraziare subito il partner di questo evento che è atap è una grande grande gioia avere di nuovo a pordenone legge con il suo ultimo libro un volo per sara pubblicato da rizzoli felicità maurizio di giovanni e insieme a lui sul palco un ospite davvero davvero speciale Jeffrey Diver io ringrazio moltissimo Massimo Turchetta che è editore di Maurizio De Giovanni e di Jeffrey Diver che condurrà questo incontro e quindi lo invito sul palco e lo ringrazio moltissimo e ringrazio moltissimo Seba Pezzani che ci aiuterà nella traduzione di Jeffrey Diver grazie ancora a tutti voi buon incontro grazie allora intanto molte grazie a tutti voi che siete venuti tra le tempeste e lo sturm undrang del tempo e per un'occasione davvero speciale sono non solo emozionato ma anche molto felice di avere due amici da presentare questa sera due amici che tra di loro diventano amici per la prima volta questa sera è un evento eccezionale che il maestro del nero italiano Maurizio De Giovanni e un grande maestro del thriller internazionale Jeffrey Diver possano incontrarsi Pordenone fa questi miracoli e sono miracoli che mi piace sottolineare non avvengono tutti i momenti allora per non perdere tempo ad ascoltare me che sono poco interessante chiedo subito a Jeffrey Diver che nonostante sia la prima volta che si incontra pubblicamente con Maurizio De Giovanni ha la specificità di aver dedicato un suo romanzo proprio a Napoli il waltzer dell'impiccato è ambientato a Napoli e quindi prima di dare la parola a Maurizio vorrei chiedere che cos'è Napoli per Jeffrey e perché è ambientato lì questo romanzo perché ho deciso di ambientare una storia a Napoli e presto detto adoro l'Italia che si incontra pubblicamente art together and there was no doubt that I wasn't going to set my book in Italy and there's also the food and wine. And I'm sure you have no crime here but Pordenone is not out of the question for future books. Sono certo che qui a Pordenone non ci siano tanti delitti ma non pensate che io la escludo assolutamente da eventuali storie criminali in futuro. Grazie Jeff. Invece però siamo qua perché il nuovo libro di Maurizio De Giovanni è uscito da poco e sta avendo un successo molto grande come e più di altri suoi precedenti libri. Sara è un personaggio particolare e ti chiedo Maurizio come hai fatto a immaginare che un mistero del passato recente italiano potesse essere collegato ai giorni nostri attraverso Sara. Sì innanzitutto fammi dire Massimo che sono estremamente emozionato. Io presento questo libro grazie per aver detto il nuovo libro di Maurizio De Giovanni e non l'ultimo libro che è una cosa che ti dà che ti dà un senso di angoscia che io se posso evitare evito alla luce dei fatti insomma poco ci è mancato che è veramente l'autore e quindi sono felicissimo tra l'altro di essere nel contesto e nel festival lo dico con con grande leggerezza perché l'ho detto altre volte e molte interviste che io amo di più perché Pordenone Legge è un posto particolare posto particolare io ho persone che amo molto che che incontro a Pordenone Legge ed è un contesto talmente bello talmente giovane talmente pieno di speranza e abbiamo così bisogno di giovedù e di speranza che veramente essere qui è un incanto e detto questo poi tu mi metti vicino a un idolo perché perché parliamoci chiaro per chiunque ami questo tipo di storia avere avere Jeff non solo non solo la possibilità di vederlo e di chiedergli un autografo ma avere anche avere anche la possibilità di parlare come come se fosse normale è una cosa che è una cosa che veramente è un regalo che che tu mi fai e che io ricorderò molto a lungo molto a lungo detto questo sì Sara tu lo sai è un personaggio diverso dagli altri Sara si prende la scena decide lei come le donne fanno in genere ma nel caso di Sara ancora di più io avevo una storia in mente e poi l'ho cambiata l'ho cambiata perché ho visto questa notizia di questo piccolo aereo da turismo che nell'ottobre del 2021 partendo da Milano per andare in Sardegna si è schiantato subito dopo il decollo contro una palazzina di ristrutturazione morirono tutti era una famiglia di rumeni a bordo morì anche un bambino purtroppo il bilancio avrebbe potuto essere estremamente più grave perché si scontrò contro una palazzina vuota perché la stavano ristrutturando fosse stata abitata la palazzina ci sarebbero state decine di morti e questa cosa mi diede da pensare perché era interessante l'idea che potesse essere qualcuno e non quello più in vista a bordo dell'aereo a essere il vero obiettivo di un sabotaggio naturalmente quello era un incidente e basta ma l'idea la mente malata del giallista funziona così cioè tu ti immagini un sacco di cose brutte sempre che nella realtà non ci sono e quindi diciamo Sara si prende la scena e porta a una rivalutazione di eventi storici della storia recente di questo paese che possono essere letti in più di un modo infatti e andando però un po' avanti nel parallelismo anche che c'è tra gli stimoli alla scrittura tuoi e quelli di Jeff c'è all'inizio di questo mistero italiano una un handicap di un personaggio che in realtà si dimostra decisivo perché lui ha dei una grande minorità fisica che però gli permette di arrivare dove gli altri non arrivano questo assomiglia un po' all'Incon Rhyme e al modo in cui un tetraplegico nei panni poi del film nel collezionista d'ossa vestiti da Denzel Washington ha in qualche modo compensato una terribile andipra con una performance di grande livello ti chiederei magari se tu sei particolarmente incline ad andare a scavare nelle caratteristiche umane di questo genere ma innanzitutto io ti dico che ogni frase riferita alla letteratura che abbia me e Jeff all'interno è sbagliata da un punto di vista grammaticale cioè proprio la sintassica è sbagliata perché non si possono mettere il mio nome e quello di Jeff all'interno della stessa frase riferita alla letteratura detto ciò detto ciò noi raccontiamo le lesioni noi raccontiamo sempre le lesioni sono quelle che sono interessanti la perfezione non si deve raccontare la perfezione è il supereroe stesso è lesionato è una persona sofferente non fosse altro che perché solo non fosse altro che per la solitudine raccontare le lesioni significa raccontare le differenze e le differenze sono una ricchezza le disuguaglianze no ma le differenze sono una ricchezza raccontare le lesioni è sempre interessante quindi la solitudine la fobia la paura la distanza il passato il passato addosso il passato dentro e tutte le ferite che può generare questo sono le cose che sono interessanti da raccontare l'handicap fisico può diventare una forza può diventare una potenza in più perché ti porta a sviluppare altro io racconto in Sara un non vedente in realtà lui sviluppa tutti gli altri sensi in maniera tale che sembra diventare diventa di fatto una sorta di supereroe cioè è uno che può fare un sacco di cose io ho visitato gli istituti dei non vedenti mi sono reso conto che loro hanno tanti modi di guardare tanti modi di vedere e dicono che noi siamo distratti dalla vista cioè la vista è un elemento di distrazione noi attorno alla vista e sulla base della vista non diamo ascolto agli altri sensi che hanno pari dignità quindi raccontare le lesioni oltre a essere la parte migliore del nostro modo di raccontare le storie è anche il modo migliore di guardare i poteri che si possono avere e che vengono fuori dalle lesioni lo diceva Leonard Cohen che dalle grepe entra la luce da un muro liscio non passa niente dalle grepe invece la luce passa grazie chiederei a questo punto invece a Jeff cosa significano nei suoi personaggi gli handicap fisici perché i suoi due principali character sono Lincoln Rhyme tetraplegico Colter Shaw invece per nulla affetto da nessun tipo di minorità ma invece la donna a fianco a Lincoln Rhyme Amelia ha anche lei i suoi problemi fisici tu inserisci spesso dei difetti delle minorità dentro ai tuoi personaggi perché a fianco a fianco a fianco o a neurolinguist say that the same part of our brain that creates an emotional connection with the people in our lives for good and for bad our family members and our friends and then the evil boss or the fellow who cuts you off on the highway that makes your heart race either with love or with hate that part of the brain is the same part of the brain that responds to fictional characters it's identical so my goal has always been like Mauricio we're plot driven authors there's no question about that our stories move along very quickly but like you if we don't create characters that are real the fans, our readers are going to fade away and so when I was looking around for a book to write the book that became The Bone Collector I thought what brings us all together disability because Lincoln Rhyme is an extreme example of disability but we all have a disability in our lives it may be something we're not as good at what we would like to be we're not as physical as we would like to be we're not the Olympic star we would like to be but in the end we incorporate that into our soul and use it and turn it around if we're successful and if we're lucky and that was the character that I the characters that I've created and that I will continue to create thank you so much thank you I'm going to have you a neurologist for sure he was a neurolinguist to say that the same part of our brain is that creating a connection emotive between the important people of our lives such as our families or our friends from being and even with our failures and perhaps the same people that are negative such as as a boss mala per esempio, è quella che risponde a personaggi creati da noi scrittori, quindi è un elemento molto importante. Certamente io condivido con Maurizio una cosa, cioè entrambi siamo autori per i quali la trama è molto importante, la trama deve avere un passo veloce, ma qualunque trama non può essere priva di personaggi che abbiano un certo realismo, perché altrimenti il lettore si stanca e dopo un po' smette di leggerti. Quando mi sono accinto alla stesura del collezionista di Ossa mi sono chiesto quale potesse essere l'elemento che accomuna un po' tutti, in quel momento mi sono reso conto che quell'elemento era la disabilità, perché è vero, a Lincoln Rimes sapete benissimo che tipo di problema abbia ed è forse un esempio estremo di quella disabilità, ma la disabilità è una condizione che ci unisce tutti, chi può dirsi completamente soddisfatto di se stesso, magari qualcuno di noi pensa ad avere non una disabilità ma dei difetti fisici anche più ampi di quelli che pensa, si rende conto di non avere un fisico da atleta e questo quindi è un elemento talmente importante, talmente costante della vita dell'essere umano che noi li incorporiamo nella nostra anima e quando ho scritto quel libro, ho creato quel personaggio, quella era la mia intenzione, cioè rappresentare quella cosa e non smetterò di rappresentarla. Grazie Jeff. Però c'è un tema che muove dietro le quinte, che fa da motore dei vostri romanzi, del tuo romanzo in particolare che siamo qua stasera a presentare, che è alla fine voi avete un'idea del male e l'idea del male che è molto diversa per un italiano di educazione cattolica rispetto a un americano con un'educazione anche religiosa diversa e traspare da quella, un'idea diversa di male. Per te, nei tuoi romanzi, nel volo di Sara, che cos'è il male? Perché tu lo indaghi spesso in tutti i tuoi romanzi da diverse sfaccettature. Sì, io paradossalmente credo poco nel male, credo poco nel male come entità assoluta, non credo che esista, se non nella follia, la volontà di ledere, la volontà di nuocere in maniera preconcetta, pregiudiziale. Esiste l'egoismo, esiste l'egoismo in molte forme e la forma estrema di egoismo diventa fatalmente nociva per gli altri. L'affermazione dell'interesse personale, la volontà di procurarsi potere, ricchezza, la volontà di procurarsi vantaggio, ma anche di vendetta. Anche la vendetta è una forma di egoismo, no? È una forma enorme di egoismo. Chiaramente l'applicazione dell'egoismo nella vita sociale diventa quello che noi chiamiamo il male. Anche cedere al proprio piacere, a danno degli altri e in effetti può essere ritenuto il male. Io con Sara racconto grandi eventi del passato e in qualche modo ne analizzo i frutti. Quello che è successo a distanza di 10, 20, 30 anni. La caduta del muro di Berlino per tutti quanti noi, quelli che se ne ricordano ovviamente, che hanno la mia età almeno, ricordate che fu un momento di grande felicità, no? Veniva meno una barriera, era una liberazione. Cioè il mondo si procurava una connessione nuova che prima non c'era ed era rappresentata da questo muro plasticamente. Oggi come oggi io non so quanto sia facile dire che il mondo da un punto di vista geopolitico è migliore rispetto a com'era allora. Non lo so. Non è un giudizio che mi sento di dare così alla leggera. Tante situazioni anche di sopravvivenza di larghissime fasce di persone sono peggiorate adesso. Tangentopoli, di cui racconto in questo romanzo, fu la fine di una classe politica corrotta. Noi guardavamo, io ricordo le udienze del processo Cusani come fosse una fiction. Le guardavamo. C'era gente che esponeva degli striscioni per incoraggiare il lavoro dei magistrati. Se ci pensate oggi a dell'incredibile, no? Cioè ti fare per la magistratura. Io non so dire, temerei di dire alzi la mano che è assolutamente sicuro che la classe politica attuale sia migliore di quella. Non mi lancerei in una domanda del genere. E io stesso non saprei che dire a chiedermelo. No. Non sa il romanziere rispondere a queste domande. Il romanziere racconta le storie con la S piccola, all'interno della storia con la S grande. Ma tante volte la fisica delle particelle spiega l'infinitamente grande. Tante volte raccontare di piccole storie può aiutare anche a capire la storia con la S maiuscola. I love my heroes, of course, Lincoln Rhyme, Emilia Sacks, Colter Shaw, Catherine Dance, the many others I've created. But I really love my villains. And I'm always looking for a way, since my job is to terrify you and make you turn those pages as quickly as you can, always looking for new types of villains. Because I want to give you the same story I create, one that takes place over a short period of time, that has a lot of interesting information to it, that has a surprise ending, followed by a surprise ending, followed by a surprise ending. Always want to do that. But we need to mix it up. We need to change it a bit. So for the black map, I got the idea. Because we see this movement in America where corporations are moving their way into influencing government to an extent they possibly shouldn't. And they can do it with impunity. They can do it because it's not like a single serial killer. There's a massive corporation, and like the Hydra, if you cut one head off, that is you arrest one CEO, there'll be others to take his or her place. And so that's the villain, that's the evil in the black map. This, not the fellow following you in the alley or the crazy person on the bus next to you, but the big corporation that has a big happy logo on it. You'll enjoy our products and then look what it's doing behind the scenes. Thank you. Thank you. certamente eh eh sono molto affezionato ai miei eroi, sono affezionato a Link Rarim, Milia Sacks, a Call to show, a Katherine Dance, ma una cosa che mi piace davvero fare è creare le mie canaglie, i miei personaggi negativi e siccome il mio compito è quello di spaventarvi, e di spingervi a sfogliare le pagine del libro rapidamente, sono costantemente alla ricerca di un nuovo tipo di cattivo. E quindi quando scrivo un libro, quello è un elemento che tengo sempre presente, oltre naturalmente a una storia che si svolge in un arco di tempo breve, veloce, con parecchie informazioni di contorno utili al lettore, con un finale a sorpresa, seguito da un altro finale a sorpresa e da un altro finale a sorpresa. Ovviamente è una cosa che faccio sempre, ma proprio perché la faccio sempre è necessario ogni tanto inserire un elemento di diversità, di cambiamento. Nel caso della mappa nera, dell'ultimo romanzo avente il protagonista Culture Show, lo spunto lo tratto da una cosa che in questo momento in America è molto importante, molto significativa, cioè il crescente impatto che i grandi gruppi societari hanno sul governo, la sfera di influenze che riescono ad esercitare, o di fatto con impunità, aggirandosi tra le pieghe della legge. Parliamo di un cattivo diverso da quelli soliti, non è un serial killer, non è una persona che una volta eliminata possa permettere alle forze dell'ordine di risolvere il problema. Qui parliamo di grandi gruppi societari dove se una persona viene fatta fuori, anche dal punto di vista del licenziamento, qualcun altro ne prende il posto e la società continua a portare avanti quello che faceva in precedenza. Quindi è molto interessante come concetto di male in questo caso, non parliamo del pazzo che ti tende un agguato in un vicolo scuro, ma di qualcosa di molto diverso, molto più pericoloso, dove una società tentacolare prende sopra il vento. Questo succede da avere la fortuna di avere grandi gruppi societari. Noi non lo possiamo fare, cioè il giallista italiano purtroppo non può avere il grande gruppo societario. Siamo scurovisti. You have the unit in your book, the unit. Sì, si può fare. I piccoli, i piccoli. Qualcosa di più piccoli. Sono le proporzioni relative che contano. Le dimensioni, contano le dimensioni. Senti, Maurizio, invece volevo chiederti a questo punto tornare proprio a Sara, perché non soltanto è il tuo protagonista per la prima volta femminile, di quelli che si accompagnano serialmente da un romanzo all'altro, ma c'è anche la sua alter ego, c'è Teresa, ci sono tante donne. Cioè il tuo romanzo, almeno la ciclo di Sara, è un romanzo dominato completamente dalle donne. Gli uomini appaiono. È stata una scelta cosciente o ti è nata così, ti è venuta così? Mi sono buttato sul realismo. In effetti, nella piena consapevolezza di... Cioè non ho voluto tentare il solito placebo che lo scrittore di sesso maschile utilizza, almeno nei romanzi, per avere una qualche... No, la verità è questa, è che io sono molto, molto affascinato dall'amicizia femminile. Il funzionamento dell'amicizia femminile, fin dai bambini, fin dalle bambine, è totalmente diverso da quella maschile. Due amici hanno una confidenza che arriva fino a un certo punto. Non si raccontano più di tanto. Parlano molto, condividono molto, ma più di un certo livello di confidenza non consentono. Due uomini non vanno insieme in bagno. Mai. Si fermano fuori, aspettano che uno esca per andarci. Due uomini non si raccontano qualsiasi cosa accada in tempo reale. Ma due uomini possono rimanere amici per tutta la vita. In questo range possono rimanere amici per tutta la vita. Vedo molte donne che hanno una condivisione maniacale dell'esistenza, arrivando a livelli di coscienza tali da inventarsi cose che non esistono in realtà, pur di raccontarsele. Ma al di là di quel livello bruciano questo rapporto in tempi limitati. Io vedo raramente donne che poi rimangono ugualmente amiche per tutta la vita. Quindi il funzionamento sociale dell'amicizia fra due donne è diverso. Fa eccezione il rapporto fra due sorelle. Due sorelle possono anche non avere quasi niente in comune, possono anche rompere, ma rimangono in qualche modo unite, per sempre, anche a distanza. Cioè c'è come una risonanza dell'una che colpisce l'altra. Io ho voluto raccontare in Sara e Teresa questo tipo di rapporto. Loro sono diverse, opposte. Non hanno qualche modo in comune, né nel modo di comportarsi, né nel modo di guardare la vita. Ma nessuna delle due può fare qualcosa che l'altra in qualche modo non conosca e di cui l'altra non risenta. Questa è una cosa che mi piace molto perché chiaramente diventa un'unione nel dolore, soprattutto. Perché nella gioia è abbastanza semplice condividere. Condividere il dolore e condividere il dolore del cambiamento. Condividere il dolore a distanza. In un'età che è quella sopra i 50, i 60, in cui la maggior parte della vita comunque è dietro le spalle. Pur non essendo finita, è interessante da raccontare. Quindi mi sono messo a guardarle, mi sono messo a sentirle e quello che mi hanno raccontato, a mio modo di vedere, è molto, molto, molto complesso e bello. Dà una luce diversa al rapporto fra loro due. Sì, da una luce diversa. È vero. E credo che molte delle tue lettrici ti saranno grate per la delicatezza e anche l'intimità con cui le racconti. Però vorrei chiedere a questo punto invece a Jeff cambiare completamente orizzonte per un attimo e chiedergli se le nuove forme di intrattenimento, lui ha dominato le classifiche dei best seller al cinema con appunto il collezionista Dossa, ma da quando ha scritto il collezionista Dossa ad oggi ci sono state dei cambiamenti dovuti alla nascita delle serie TV. E capire se questo ha influenzato il suo modo di vedere la fiction e il suo modo di scrivere anche. di scrivere anche di scrivere anche and we may listen to music and then after maybe give it 40 minutes you start to doze off a little bit and start to think about where you're going to go eat afterwards but with a book you cannot have that casual attitude toward this creative product and I call it a product why? because readers are participants it's a partnership between the author and the reader and I'll simply conclude by saying this that we authors are beset by intensely popular competition in the form of nowadays primarily television video games too to some extent but primarily television and I've had TV shows you've done TV shows it's wonderful but at the end of the day a book is I think the richer experience what does that mean in response to your question? it means this that since the bone collector I have changed my writing style significantly I now have what I call the streaming style I have quoted that I made it up myself and by that I mean my books are shorter the paragraphs are shorter the word choice is more what I would say staccato faster like this there's much more dialogue my stories are still the same there's no question about that my multi-plotted stories are still the same but I want somebody who's used to streaming watching streaming TV shows to pick up one of my books and read it or one of Maurizio's books and read it and say you know this is just that much better of an experience and so in answer to your question yes I've been very aware of the popular trends and some people have said oh you can't do that you're the author they should come to you no 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 we have to come to you thank you well yo posso parlare dei romanzi e dei racconti che scrivo penso che la scrittura in generale soprattutto la la narrativa sia l'esperienza creativa più straordinariamente emotiva che sia mai stata concepita se voi pensate per esempio all'esperienza di trovarvi in un museo di fronte a un quadro straordinario immagino quanto sia coinvolgente l'esperienza però dopo 20 minuti la domanda che vi sovviene è quando si mangia, dove si mangia adesso? se ascoltate musica vi concedo 40 minuti dopo 40 minuti è naturale che vi chiediate adesso andiamo a mangiare magari vi assopite anche leggermente questo non succede con i libri i libri non possono essere caratterizzati da quell'atteggiamento casuale perché sono un prodotto creativo diverso perché tra i lettori e l'autore del libro si stava una sorta di complicità il prodotto è fatto insieme è fatto per essere concepito insieme oggi ovviamente c'è un problema supplementare nel senso che la concorrenza imposta da altre forme di intrattenimento è molto forte nei confronti degli autori la televisione soprattutto anche videogioca ma la televisione in particolare e quindi siccome sia tutte e due abbiamo comunque avuto noi autori sia Maurizio che io delle serie tratte dalle nostre serie sappiamo cosa significhi in qualche modo i libri restano comunque la cosa migliore che ci possa essere e per rispondere alla tua domanda sì ho cambiato il mio stile quello che io utilizzo ed è una mia espressione che in qualche maniera ho coniato è uno stile di scrittura in streaming quasi che significa che i miei romanzi sono più brevi le frasi sono più brevi ci sono dialoghi più di quanti ce ne fossero in passato c'è un impatto anche più forte della ritmica all'interno delle storie per in qualche maniera intercettare quelle persone che sono appassionate di o serie televisive o serie trasmesse in streaming che magari in precedenza non si erano accostate ai miei romanzi io voglio che quelle persone si accostino a quei romanzi e qualcuno mi ha anche detto che un autore come me non dovrebbe preoccuparsi minimamente di quelle cose perché alla fine i miei libri in qualche modo ai miei libri in qualche modo i lettori si accostano io invece ho un atteggiamento opposto sono io che mi devo accostare ai lettori sono io che mi devo avvicinare a loro perché li devo spingere a leggere i miei libri non viceversa Maurizio grazie Jeff di questa risposta molto non per nulla ovvia e profonda e vorrei riportarmi sulla sul libro di Maurizio e chiedergli se a questo punto Sara è un personaggio che lui immagina andrà avanti innanzitutto ti ringrazio di non avermi fatto la stessa domanda che hai fatto a Jeff sulle serie televisive io avrei sarei stato sarei stato meno nobile nella nella risposta puoi esserlo sei sempre in tempo no no grazie io preferisco preferisco limitarmi è indiscutibile dirò soltanto che è indiscutibile che diciamo c'è questo nuovo linguaggio e che questo linguaggio narrativo sia rilevante perché raggiunge delle fasce di persone che non leggono i libri non sarei così convinto che l'effetto non corrisponda alla causa cioè non sarei così convinto che non leggono i libri perché ci sono le serie non che guardano le serie perché non leggono i libri che sembra la stessa cosa ma non lo è io credo che un certo tipo di offerta sottragga la la voglia di avvicinarsi alla lettura non lo dovrei dire io io sono l'unico autore italiano che ha quattro serie su Rai 1 Sara sai diventerà una serie per Netflix quindi io sono uno di quelli avvantaggiati però io sono fortemente convinto che la lettura come diceva Jeff ha ragione un milione di volte non una che la lettura sia un'attività guardare uno schermo è una passività quando noi guardiamo uno schermo guardiamo senza dover immaginare qualcosa che ha immaginato qualcun altro quando leggiamo un libro noi lavoriamo facciamo il 50% minimo se non di più del lavoro quindi lo scrittore mette i puntini e il lettore tira le linee per ottenere alla fine la figura che avrà in mente questo è fondamentale è un'altra cosa non è che esistono diverse maniere di ascoltare una storia dalla mamma a voce come fiction televisiva come film al cinema come palcoscenico teatrale e come libro no esistono varie forme di guardare una storia per immagini è una sola forma di partecipare alla costruzione della storia e quell'unica forma è la lettura non ce n'è un'altra nella lettura noi non sentiamo manco il tono della voce di chi racconta ce lo dobbiamo fare noi costruiamo noi i volti dei personaggi il fisico dei personaggi le parole dei personaggi ognuno di noi ha la sua Anna Carienna o il suo Aureliano Buendia o il suo Lincoln Rime ognuno di noi avrà soltanto questo personaggio nella sua mente che è diverso da tutti gli altri io ancora adesso incontro lettori che mi dicono io me li immaginavo diversi prima di vederli in televisione e puntualmente io rispondo la stessa cosa e hai ragione tu qualsiasi cosa tu abbia immaginato hai ragione tu perché ognuno di noi è il suo personaggio questo io credo sia fondamentale per noi autori che abbiamo la fortuna come come il grandissimo Jeff in piccolo anche io di avere dei personaggi ricorrenti la bellezza di avere un lettore che si avvicina e ti chiede ma Ricciardi come sta? e lo fanno con consapevolezza ma Sara che le succede a Sara? tu che lo sai dimmelo che cosa succede a Sara nel prossimo libro è un'esperienza talmente bella e affascinante che uno non la cambierebbe con niente al mondo la scrittura per la televisione è un male necessario è un'altra modalità di raccontare storie di cui noi siamo molto contenti ma che non corrisponde minimamente a quello che è quello che ci succede nella testa in quei cinque minuti prima dell'alba e che ti fanno non vedere l'ora di alzarti per metterti al computer però Maurizio è una bellissima risposta ma non ho risposto ma non hai risposto lo so mi succede a una certa età succedono queste cose sono risponde dunque sì io non vedo l'ora ho un romanzo da scrivere che uscirà per fine anno con un vostro vecchio amico che non vedete da un po' e quindi ho un romanzo da scrivere e poi io spero di poter scrivere il pezzo che mi manca che viene dopo questo romanzo di Sara quindi se il mio editore me lo fa scrivere io molto volentieri scrivere il prossimo Sara grazie 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 di questo applauso magari lo convincete no ci aiutate ci aiutate a leggere il prossimo Sara per questo vi ringrazio molto spontaneamente e vorrei invece chiedere a Jeff che in qualche modo come è nata la sua idea di Colter Show Colter Show è l'ultimo l'ultima invenzione di character in qualche modo Sara Morozzi la più recente la più recente la più recente Sara Morozzi interpreta le tracce del linguaggio del corpo Colter Show invece è più classicamente più in sintonia con la con la grande spazi degli dell'America interpreta i segni della materia non i segni delle persone quando hai pensato di inventare questo personaggio e come ti è venuto certo certainly in some when I go to some countries I have to kind of explain the concept of the stranger coming to town it's an archetype of storytelling two types of stories somebody goes on a quest or a stranger comes to town and bad things happen from that but in America as in Italy the Sergi Leone movies for instance this concept of the western the gunslinger who comes to town is very prevalent in American storytelling and it may not necessarily be a western it's simply a troubleshooter a guy a hero a guy or a girl a man or woman who comes to town and I love that I love that character and who doesn't you know like if you know the books of Lee Child Jack Reacher for instance we love the good guy who comes to town and I always thought I'd write that and it just took me some years to get around to it because Lincoln rhyme has been very popular I'll always write the Lincoln rhyme books people have said well are you going to kill Lincoln rhyme off and I say are you crazy I have a mortgage to pay I have children to put through school I have very big dogs that need a lot of food and so no I'm not going to kill Lincoln rhyme off but so I'll always write them but I needed to kind of expand to reach more readers and to kind of tap into this stranger coming to town so Colter Shaw if you don't know him he's somebody who travels around the country and will come internationally possibly to Portanone I don't know and he looks for rewards that have been offered like for missing children or terrorists the American State Department has a 25 million reward for information leading to a particular terrorist and so but that's what he does for a living and I just love that idea and I wrote the first one and thought well let's see how this does and CBS television picked it up to somebody at least liked it and the sales have been good so that's where he came from in America this type of story is prevalent especially in Western but you have examples of the story of Sergio Leone the story archetypical of the pistolero that comes in a city and happen something that is an hero but it is an hero because it is a figure maschile has always exercitato fascino su me e ci ho messo un po' di tempo per arrivare a creare un personaggio che in qualche maniera io avevo in testa da tempo e in qualche modo io mi sento anche ad accostare al personaggio di Jack Richard di Lee Child ci ho messo parecchio tempo perché ovviamente avevo altri libri da scrivere i libri della serie Lincoln Rhyme ogni tanto qualcuno mi dice adesso che è arrivato Colter Show cosa fai ammazzili Lincoln Rhyme io dico sempre ma siete pazzi assolutamente no ho un'ipoteca da pagare un mutuo e poi comunque ho dei cani grossi da alimentare che mi costano un sacco di soldi comunque ogni volta devo fare questa spiegazione e in realtà il motivo per il quale mi è venuta in mente l'idea di Colter Show è quella che ho cercato di espandere un po' il mio spettro per raggiungere altri lettori e per darvi un'idea di chi sia Colter Show è una persona che viaggia in giro per il mondo non soltanto negli Stati Uniti chissà che un giorno non arrivi anche a Pordenone e che cerca di intascare delle ricompense che vengono messe a disposizione nel caso si ottengano informazioni su determinati personaggi ricercati per esempio potrebbero essere ricompense nella ricerca di un bambino scomparso oppure di un terrorista su cui la polizia ha messo gli occhi da parecchio tempo negli Stati Uniti per esempio attualmente c'è una ricompensa da 25 milioni di dollari per un famoso famigerato terrorista ebbene pare che la serie sia piaciuta il personaggio sia piaciuto i libri hanno venduto e ultimamente la televisione ne ha opzionati diritti per fare una serie per cui insomma andiamo avanti chiedo Maurizio invece per un po' a tradimento ma visto che non aveva risposto a prima domanda può non rispondere anche a questa ho risposto poi poi dopo in seconda battuta in seconda battuta è come il dribbling con la finita riflettevo che da noi lo straniero pure arriva in città e chiede il voto normalmente ho già fatto caso un funzionamento un po' diverso e e quali sono invece per Sara ma anche per gli altri tuoi character ricorrenti se li hai dei modelli di riferimento tra gli autori o tra i personaggi della letteratura italiana e internazionale potrebbe essere anche il cinema potrebbe essere anche no io io da lettore è inevitabile che gli scrittori che tu hai amato e che ami finiscano un po' ma sono non sono nemmeno modelli perché non ci puoi arrivare mai sono sono delle delle accensioni delle idee delle delle diciamo dei nuclei attorno ai quali poi tu ragioni i bastardi di Pizzo Falcone si muovono sulla base di Ed McBain dell'ottatasettesimo distretto è un autore immenso che abbiamo perduto nel 2005 e che ha scritto 55 romanzi che sono 55 capolavori cioè non ce n'è uno brutto che per uno che ha scritto dagli anni 60 e fino al 2005 ininterrottamente su una squadra che sono gli stessi personaggi cambiando i contesti facendo evolvere la società che racconta veramente dell'incredibile dello straordinario io sono un appassionato e per cui direi che i bastardi di Pizzo Falcone scimmiottano un po' l'idea dell'ottatasettesimo Mila Settembre almeno nella scrittura io normalmente rileggo Westlake prima di scrivere di Mila Settembre Donald Westlake che è un altro straordinario meraviglioso immenso giallista statunitense che riusciva a farti cominciare a sorridere quando tu aprivi il libro e a prezzo di un dolore alle mandibole tu ti accorgevi di stare ancora sorridendo alla fine del libro cioè senza mai smettere che è una cosa secondo me che ha del sopranaturale quindi Mila Settembre diciamo un po' riferito a quello Ricciardi 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 funziona in maniera diversa Ricciardi ha una normalità della paranormale ha una contiguità fra la normalità e il paranormale che ha sprazzi che c'è sempre nella letteratura di Stephen King a mio modo di vedere colpito drammaticamente dal successo che ha per cui valutato sulla base dell'immenso successo che ha e non sulla base del straordinario incredibile valore creativo perché uno che ha scritto il miglio verde pezze materi Carrie la zona morta Hit l'ombra dello scorpione e potete continuare per un 6-7 ore mantenendo quel livello le ali della libertà cioè Shining Hit le ali della libertà pensate sui film e il miglio verde lo stesso autore cioè può esistere un soggetto così tra l'altro col miglio verde imponendo all'editore una scelta una pubblicazione dei sei volumetti imposta e voluta da lui insomma grandissima e io ricordo la violenta rabbia quando finivi di leggerne uno nel fatto che non avevi l'altro cioè era un'amputazione io credo che ancora adesso che l'immagine è più bella che ricordi che abbia prodotto la letteratura sia la fotografia delle migliaia di persone sotto l'ombrello sotto la pioggia all'alba alle 5 di mattina fuori la sede delle Figaro che attendevano l'uscita della puntata del Conte di Monte Cristo che usciva a puntate cioè pioveva il giornale lo trovava lo stesso alle 9 ma quelli stavano alle 5 di mattina sotto la pioggia in attesa di poter avere perché non potevano aspettare ed era comprensibilissimo che non potessero aspettare quindi Stephen King diciamo è quello che tu tieni presente ma anche il realismo il realismo maggio della letteratura sudamericana del novecento ma solo ti ripeto sono sono suggestioni che ti attraversano la mente credo che solo un pazzo potrebbe pensare di mettersi a scrivere replicando cose del genere noi siamo solo fortunati a essere dei lettori e poter andare in libreria non online andare in libreria in libreria perché in libreria avviene perché in libreria avviene quel meraviglioso momento che in termini tecnici è detto cazzeggio in cui uno sta un'ora in libreria esce con quattro libri essendo entrato solo per perdere tempo cose che non ti succedono da nessun'altra parte questa è la cosa bella della libreria che non ti succede online io online devo comprare Jeff cerco Jeff lo trovo e lo compro in libreria io non compro solo Jeff ma compro una serie di libri sconosciuti che mi cambiano l'esistenza quindi siamo fortunati ad essere dei lettori essere qui invece che davanti alla televisione e siamo fortunati ad avere le librerie queste due fortuna non ce le dobbiamo dimenticare una storia molto rapida su Stephen King pubblicato da la stessa company in America e ha ritirato 10 anni e in that time since he ha ritirato 17 full-length books volevo dire una storia da molto breve su Stephen King visto che abbiamo un editore in comune lui si è ritirato 10 anni fa e nel frattempo ha scritto 17 romanzi da quando si è ritirato e Jeff non posso che chiedere anche a te come ho fatto con Maurizio se tu hai dei modelli che ti hanno ispirato nel inizio della tua carriera di scrittura surely and you talk about the 87th precinct that was the Ed McBain who also wrote as Evan Hunter he wrote more literary novels as Evan Hunter those I read I read the James Bond Ian Fleming books from the time I was very young I read Agatha Christie I learned how to do plot twists from Agatha Christie I read Sherlock Holmes of course because I like the forensics John le Carré maybe my favorite author I was a little bit older when he started publishing but in Italy Camigliere I loved even before the Moltobano series came out that was an influence as well and you know when you see an author we always bring something of ourselves to the game but what you're also doing is looking at all the authors who stood behind him and her and whom they have incorporated into their writing soul well certo tu parlavi dell'87esimo distretto di Ed McBain che ha scritto romanzi di stampo più letterario sotto il nome di Evan Hunter e poi ho letto certamente tutti i romanzi di James Bond soprattutto da giovane Agatha Christie che mi ha insegnato a creare colpi di scena a costruire le trame ovviamente Sherlock Holmes perché sono appassionato di scienze forensi John Le Carre è uno dei miei forse il mio preferito ma ci sono anche autori italiani per esempio Camilleri con la sua serie di Montalbano che ha avuto comunque un impatto su di me ogni autore cerca di dare un suo contributo personale alla scrittura che non può prescindere sicuramente dalla lettura che ha fatto prima però qualche cosina in più cerca sempre di mettere grazie Jeff credo che sarebbe molto bello poter parlare di letteratura e di trame di personaggi dell'attività di questi due giganti però lascio la battuta finale a Maurizio perché in qualche modo siamo tutti qua per lui questa sera e quindi oltre a averci detto che ci sarà presto un nuovo Sara ma prima il ritorno di un vecchio amico che manca da un po' ti chiedo quando ti diverti di più sai noi abbiamo avuto un grande autore di canzoni che si chiamava Libero Bovio Libero Bovio era abbastanza grosso e abbastanza avanti negli anni un giorno lui saliva per le scale la mia città è fatta di scale saliva per le scale era tutto sudato un ragazzaccio lo scugnizzo lo guardò e disse eh è brutta la vecchiaia lui si asciugandosi la fronte e gli risposa hai ragione voglio non te l'auguro e credo che credo che credo che credo che una volta passato questo assunto il tempo per scrivere uno se lo procura grazie a tutti grazie a Maurizio Giovanni grazie a Jeffrey Diver grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti